ciao non è che prendo in bocca le cose vero? no no siamo qua noi ciao barbie family pintonetti non avevo video madonna ho togliato i capelli ma devo aggiustarli devo fare la vita ciao cos'è? niente sfondo c'è la macchina quindi allora ha pulito un pezzo una volta è piovuto non vi faccio vedere c'è qualcosa per terra no non faccio vedere sala non voglio spolerare nulla quindi usci cosa stai facendo? mi vuoi picchiare? amore mi vuoi picchiare con quel cosa smettila di far pirlu e da montare l'alettone della macchina se sei se sei si dice appeso il vestitino bobi mi sembra la bella lavanderina che che svuota i che svuota i tibulloni nananana nananana andiamo a bucare la macchina tata venga lei mio possente eh ma che cazzo ti vedi? ma che cazzo ti vedi? mamma si stanno bucando la macchina ah io avrei messo la vite filetta anche non sai due buchi primi due buchi che cazzo ti vedi che cazzo ti vedi che sei che cazzo ti vedi che cazzo ti vedi che cazzo di Qua c'è resina Vito, non me l'ha portato via? Sì Ci sei? Metti il dito qua, ti ne ho schiacciato così Sì Hai capito? Sì Tieni però Scusami se io ritengo di qui Sì ma devi tenere dallo schiacciato Dallo schiacciato Dallo schiacciato Dallo schiacciato Dallo schiacciato Dallo schiacciato Ma è fatto bene Tieni ho schiacciato il dado Sì adesso sì ce l'ho Non lo appuntare Ho capito Non mi fanno incazzare Ma come faccio? Non lo stai prendendo? Spingi un bullone Una è più facile Libera E' lì che c'è quel ferro del caccio E' tutta sporca adesso? E' tutta sporca adesso? Dobbiamo pulirla Tu non ci arrivi Pulisco io Pronte per il secondo round Mettiamo la pellicola Oscurante qui Mi ha preso per cingerella qua Sì allora io Quattro giorni sempre Sto dietro Eh? Vai vai Mi viene Un video Aspetta Fa vedere come si vede da dentro E dopo lo facciamo vedere Messo Ora Andiamo a mettere quelli Non facciamo vedere mentre li mettiamo Perché sennò il video È lungo Questo è l'oscuramento dei vetri E fanali scusate E Ecco lei no Bobi 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 Che è Papa Luca ci ha smontato Il giorno dopo Mattina Il giorno dopo Qua giorno per giorno La facciamo E andiamo a Oscurare i fari Papa Luca Aiutaci Sui forza 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 Io ho smontato Scendo adesso Sto vedendo La pellicola nera Devi fare i triangolini Per appiccicareli Sulla macchina Che bello Ci divertiremo tanto A fare tanti triangoli Da questa pellicola Tanti triangolini Sì sì Questo è lungo così Riparato tutti I primi triangolini E ora Andiamo Partiamo da Te ne so Da qui Così 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 Magari là Ne facciamo uno Piccolino Vado? Dai Mamma Tanta Cosa Li Cosa Di I Li Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui? Adesso deve mettere questi. Dove si mettono questi? Bella la carriola. Dove? Dove si ha messo anche quello blu? Tieni. Davanti. Oh, devi farmi per forza fare a me. La macchina è finita, sta andando a parcheggiarla. Ok? Vuole che vi faccio vedere. Adesso vi faccio vedere tutte le modifiche che abbiamo fatto. Modifiche esteticamente, eh? Perché il motore non l'abbiamo toccato. Sono i bambini, questi che baiano. E dopo in un altro video facciamo le reazioni. Poi vi spiego. Eccola lì che... Lei scende sexy dalla sua macchina con le ciabattine di Barbie. Allora. Alettone. Scritta dietro, sul vetro dietro, con le fiamme. Che non si vedono. Perché, boh, vabbè. I vetri volevamo oscurarli, ma la carta faceva cagare. La scritta di Vice City, per chi gioca alla PlayStation, conosce sto... Vabbè, il cuore l'avevate già visto. Abbiamo oscurato i fanali. Messo tu. Torto le scritte. Bravissima Simona. Messo tutti i triangoli così, fiancata. Poi parte curvato sotto. E... Qui. E mezzo cofano davanti, come mezzo dietro. Ha messo la fettuccina. Ha messo Speed Hunters, la scritta. E l'oscuramento per il sole. E poi le palpedre, è vero? E sotto le pinneate. Ah, sì, è vero. E le pinnette qua. Faccio vedere queste. Sia di qui. Che di qua. Eh? Ti cade il pantalone? È giudato. È bucato. E... Eccola qua. Mi piace? Eccola qui la macchina. Wow. Sembra una zebra. Bene. Come fai? Devo farti il video mentre vai, mentre non vai, bla 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 bla. Concentrata a fare le foto. Con le sue mele che ci ha fatto e che fra un po' gli escono i piedi. Ok? Muoviti dai, vai alla guidi. Mamma, devo fare il giro di là. Come? È di qui? Fai il tutto il giro? Tutto il giro? E vai, muoviti. E cosa devo fare io? Per il video quando arriva. Ah, il video quando arriva, scusi. E dove vai adesso? Io l'ho capito. Che cosa sto facendo? Mi vuole vestire per caso? Dai. Dai, vadi. Faccia il giro. Madonna. Ma si vuole muovere? Ah, la cintura. Mi sembro un emerita scema in mezzo alla strada che fa. Sì, vabbè, Schumacher. Scusi, lei. Cosa sta facendo? L'autostoppo? No, ho visto una bella macchina e ho voluto fare il video. Mi scusi, eh. Non volevo disturbarla. Vado a casa a mangiare. Dove la metti? Dove la metti? Che ne so io dove la metti. Stava bene dentro. No. Fuori. Perché? Dai, mettila qui. Oh, madonna. Quante case? Ha parcheggiato la macchina. Ha terminato il video. Ha terminato le modifiche finalmente dopo una settimana. Adesso ci possiamo dedicare anche ad altro. Vedrete il video. Faremo vedere la macchina alla nonna Lucia. e allo zio se riusciamo a beccare insieme perché dovrebbero andare dalla nonna Elena in settimana. Quindi noi andiamo là. E vedete le loro reazioni. Niente, questo video non posso pubblicarlo subito perché sennò vedono già e quindi non va bene. E niente, like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per il video. E vedete il video in questo video. A presto